La sesta puntata di Braccialetti Rossi 3, andata in onda domenica 20 novembre su Rai 1, è segnata dalla morte di Nina. Si è procurata un trauma cranico in mare, ha battuto la testa su uno scoglio mentre cercava di salvare l'amica Chris che aveva avuto un malore in acqua ed è entrata in coma irreversibile da cui non ha ripreso conoscenza nonostante l'operazione cui l'ha sottoposta la dottoressa Lisandri. Il suo cuore salverà Bobo che era innamorato di lei. Sarebbe un dono di assoluto altruismo e amore. Ma riassumiamo il personaggio di Nina interpretato da Denise Tantucci. Nina cerca ancora di mostrarsi forte. Continua a studiare concentrata i suoi ponderosi tomi universitari. Continua a girare per l'ospedale col suo telescopio in spalla cercando i punti migliori per osservare le stelle. Come se la malattia fosse una parentesi in fondo già chiusa, come se la fuori l'attendesse già la sua vita fatta di studi di astrofisica e una carriera di appassionante ricerca dei segreti del cosmo. Ma i conti con il cancro non sono ancora finiti, l'operazione non è bastata a debellare il tumore, che ancora continua ad affondare i suoi artigli. E poi ci sono i suoi genitori, che tornano ad affacciarsi nella sua vita, ansiosi, preoccupati, perché è tanto che non la vedono. Non sanno niente loro, neppure sospettano ciò che la figlia sta passando, Nina gli ha tenuto nascosta la sua malattia fin dall'inizio. E non vuole che vengano a saperlo neppure adesso, deve portare avanti la sua messincena, perché li vuole proteggere, non vuole che sofrano, o forse perché questo è il modo con cui lei ancora nasconde a se stessa il proprio male. Nina avrà bisogno di tutto l'amore dei braccialetti, e in particolar modo dell'aiuto di Vale. Ma non solo, per lei sarà molto importante anche l'arrivo di un nuovo medico dell'ospedale, un talentuoso cardiochirurgo, affascinante e misterioso, Pietro Baratti.